Si va verso un'intesa tra Regione Puglia ed Enel per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica dall'impianto di Cerano nel territorio di Brindisi. Dopo un vertice tra la Vice Presidente della Giunta, Loredana Capone, ai vertici dell'Enel, il Presidente della Provincia di Brindisi Massimo Ferrarese e il Sindaco del Capologo Domenico Mennitti, è emerso che si sta arrivando a un piano di effattibilità che tenga conto innanzitutto della riduzione delle emissioni di CO2 e della salute dei cittadini. In campo anche la salvaguardia del territorio e la riduzione del contenzioso che attiene ai terreni intorno all'Enel. Probabile la stipula di un accordo compensativo che riguardi l'aumento di produzione di energia da parte di Enel utilizzando fonti rinnovabili. Fuori dalla Presidenza della Regione la protesta di Coldiretti, gli agricoltori chiedono un impegno all'Enel al fine di dare la possibilità a 70 agricoltori di riprendere le coltivazioni attorno all'impianto di Cerano in prossimità di un nastro trasportatore.